Ciao ragazzi, siamo ritornati su Brawl Stars per giocare un pochino fino a notte. Lasciate due like ed iscrivetevi nel canale e attivate la campanellina così siete sempre aggiornati nei miei video. Allora, per ora scegliamo qualche Brawler. Scegliamo Ringio. Scegliamo Ringio per ora. Scegliamo un pochino. Allora. Ok. Allora, adesso è già morto. perfetto dovrebbe cambiare credo credo che dovrebbe cambiare allora è molto utile non basta che non usi già il gadget perchè da superhecchi vabbè vissi che vabbè snini snini fonda una macchina perfetto 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 che curano vedi che c'è la bici mi portare a causa dai 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 ma dov'è ora è la scuola ma vai prenderci qua ora è la scuola grazie no no non ci facciamo peccato va benissimo però va benissimo nel titolo già scriverò gioco con bull in duo e stop che sono giocato che sono giocato allora non ci faccio allora ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao